Oggi siamo qui come teatro popolari a supportare questo presidio e abbiamo portato un pezzo del nostro spettacolo, dello spettacolo che abbiamo fatto questo fine settimana, proprio perché le parole di Bretton sono in questo caso attualistiche. Un uomo che prende la pistola e decide a caso di sparare un altro essere umano è assurdo. La regola è questa, cerchiamo l'abuso, riconosciamolo e procuriamo rimedio. Ma è lo strano, anche se consueto, dispiegabile, pursa e quotidiano. E vi preghiamo, quello che succede ogni giorno non trovate una naturale, di nulla sia detto è naturale. In questo tempo di amartie e di sangue, di ordinato disordine, di vicinato arbitrio, di umanità disumanata, così che in un'altra armata non è stata imputabile. Avete ascoltato e avete veduto ciò che è abituale e ciò che succede ogni giorno. Ma noi vi preghiamo, se pur sia consueto, trovate lo strano, inspiegabile pur se normale. Nella regola cercate l'abuso e là dove l'avete trovato procurate rimedio. Questo è l'estratto dall'eccezione della regola di Bertolt Brecht, un testo scritto nel 1930, un testo che ancora fa copponare la pelle. Purtroppo l'eccezione in questo mondo è l'umanità, è la solidarietà, è lo stare insieme, è costruire accoglienza e comunità. La regola è invece la sovraffazione, lo sfruttamento, il poter ammazzare una persona come se fosse un poligano da tiro. Questa è la regola. E noi siamo qui per costruire invece un'eccezione a tutto questo. Basta, basta, rassismo! Basta, basta, rassismo! Basta, basta, rassismo! Siamo tutti su Mayda! Siamo tutti su Mayda!